Ad Agrigento, alla scuola materna Santa Chiara, plesso dipendente dell'istituto comprensivo Mondalcini di Agrigento, diretto da Gigi Costanza, si è svolta la festa di fine anno scolastico. La maestra Patrizia Montes, che ha seguito per tre anni i bambini, ha organizzato una giornata di ballo proprio nell'atrio della scuola. Sono state due ore di puro divertimento per i bambini. Ascoltiamo tal proposito proprio la stessa maestra Patrizia Montes. Una festa di fine anno caratterizzata da tanta emozione, tanta commozione pure, perché finisce un anno, finisce un triennio, ma lei da di triennio ne ha fatti diversi. Emozionante sempre abbandonare questi cuccioli che ho visto arrivare piangendo, con il tremore, lo spavento di lasciare la famiglia, i genitori, e poi il sorriso ogni giorno quando venivano e quindi questo consola poi di tutto. Ma devono volare, si cresce. In questo istituto si cresce anche tanto, abbiamo visto. Sicuramente, abbiamo un dirigente scolastico che ci apre le porte a tante novità. Il nostro dirigente scolastico Luigi Costanza non mette limiti, quindi ci permette di poter spaziare su tanti fronti. Qual è il miglior ricordo che si porterà di questi tre anni? Devo dire che l'esperienza del sfarfallamento, la gioia di vedere crescere questi bruchetti e la loro evoluzione, la loro metamorfosi, non solo ha interessato ai bambini, ma in primis anche noi insegnanti.